Marea nera in California, negli Stati Uniti d'America. Un allarme pieno, quello che sta coinvolgendo proprio la California. Disastri ambientali palesi, oltre più di mezzo milione di liti di petrolio sarebbero stati riversati in acqua. 3.000 barili sarebbero in totale e sarebbero fuorisciti da una piattaforma offshore e si sarebbero poi riversati direttamente nelle spiagge, causando la relativa marea nera. Il Dipartimento della California ha fatto sapere che ha inviato delle squadre di sorveglianza e di pulizia nell'aria e l'Oil Worldwide Care Network dell'Università della California ha fatto sapere di aver schierato già del personale per supportare tutti gli sforzi in risposta all'area di Newport Beach. Stati qui d'America, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un cordialissimo saluto a voi tutti e speriamo che questa mare nera che sta coinvolgendo la California venga a estinguersi quanto prima.